Probabilmente tutti noi ci aspettavamo di poter performare meglio e di fare almeno partita fatta con loro. E poi ti attropi che quando inizia a giocare, a stegare, c'è un livello talmente alto che non ti può permettere mai di abbassare la concentrazione neanche a mezzo secondo, soprattutto con giocatori come loro, una squadra abituata a riuscire. Abbiamo un avversario abbastanza forte davanti e penso che noi ci aspettavamo un po' di più e non avevamo quello che aspettavamo oggi e a quel livello si abbassa il braccio loro che fa fatica, che fa male. Noi abbiamo due tempi diversi, il primo bene e penso che è la seconda parte dell'estrona per la nostra parte.